namaste io sono east brave bentornati ad un altro episodio di questo let's play roller coaster tycoon 3 siamo al secondo scenario dei 12 di wild si chiama la pianura degli struzzi questo allevamento degli struzzi della savanna è stato recentemente messo in vendita e potrebbe essere molto redditizio è l'habitat ideale per la fauna selvaggia ma un ambiente improbabile per un parco di divertimenti togli la testa dalla sabbia e trasformalo in un successo vediamo subito tra l'altro mi sono l'impressione avete trovato tutti quanti i link per potermi contattare in giro vediamo cosa dobbiamo fare dobbiamo avere due ipopotami un incasso mensile totale della trazione di 200 un profitto dalla vendita di animali di 1000 struzzo attuale 0 possibile con la vendita di tutti gli animali 2585 condizione raggiungibile in qualsiasi momento ok questa condizione non vale ancora già questo numero non deve essere più alto di questo devo pensare bene come funziona sta cosa imprenditore dobbiamo fare la stessa cosa nel senso che si tratta di avere 6 400 e 2500 10 600 e 4000 ok quindi dobbiamo puntare direttamente a questo quindi avere 10 ipopotami fondamentalmente un incasso della trazione di 600 che è raggiungibile abbastanza facilmente devo dire e il profitto della vendita di animali 4000 quindi dobbiamo stare molto attenti a questo vediamo intanto l'area qui dentro abbiamo un po di struzzi a quanto vedo abbiamo un modo per monitorarli tra l'altro abbiamo un custode eccetera 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 come faccio a monitorare quanti animali ho in giro attrazioni visitato attrazioni eccolo quindi se io faccio così questi sono tutte le persone che ho cioè le persone gli animali che ho in questo caso strutto 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 difficilissimo da dire sono tanti vaga pensa vaga pensa comunque solo struzzi fondamentalmente l'entrata è qua del parco qui ho la prima zona d'osservazione che sono di questo tipo qua ce è una un po più grande e se non sbaglio se io vado un attimo a cercare le zone d'osservazione questo è intanto un recinto piccolo grande medio piccolo ok e se andiamo a cliccare un'altra cosa che mi serviva sulle zone d'osservazione che sono queste a ok a seconda del tipo di di recinto che avete cambia quello che è la la zona d'osservazione ok qui abbiamo questa zona qui che dentro non ha niente ok è un edificio abbastanza a sé stante e anche qua invece c'è un altro edificio a sé stante bene quindi cosa possiamo fare possiamo costruire da questo lato una trazione sicuramente dobbiamo costruire un po di attrazioni almeno quindi vediamo subito se c'è c'è il meccanico perfetto è anche ben istruito ci manca sicuramente un manovale che andiamo a istruire pensiamo un attimo alle attrazioni abbiamo un sacco di soldi con cui lavorare tra l'altro sono facilitanti questi rispetto a tanti altri che abbiamo visto una cosa che potrei fare è buttarci dentro un ottovolante tortuoso in piedi che costa 16 mila 18 mila no prendiamone uno che funzioni bene tipo l'ottovolante alla deriva black hole costa 7 mila 10 mila per 570 questo è un po poco cioè questo è tanto 570 può anche andar bene proviamo a vedere questa slittata com'è è anche molto grande quanto alto deve essere deve essere alto così per farlo stare giusto perché effettivamente ci vuole tanta altezza vediamo se sta in questa direzione molto basso c'era un punto dove stava mi sembra così è sotto te ah è proprio l'entrata che è alta ho capito quindi dovrei metterlo tipo qua così mettiamolo più verso l'entrata possibile e con l'entrata che stia a questa altezza qua quindi qua ok mi piace anche come è venuto fuori però dobbiamo abbassare decisamente la l'entrata intanto mettendo l'uscita qui almeno qua ok vediamo di fare l'entrata mi piace tanto questa quindi la utilizziamo facciamo così così e riusciamo a metterne uno di qua ah ecco perché non posso metterlo lì ho capito quindi che cacchio mi hanno messo la cosa va beh allora facciamo così mettiamo l'entrata di qua a sto punto vediamo se funziona così 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 niente non posso passare lì però posso passare lì però posso passare qui però non posso più passare adesso ok quindi dobbiamo tipo andare in giù subito così poi giriamo di qua andiamo dritti scendiamo ancora magari subito ok e da qua dovremmo riuscire a scendere uh proviamo a scendere da questa parte attenzione agli alberi che sono molto carini qua andiamo dritti e scendiamo di qua ok una bella entratona però devo dire che funziona mi piacciono anche questi questi pilastri messi in questa maniera adesso dobbiamo mettere l'uscita l'uscita invece sarà fatta con non così a quanto pare devo spostarla ancora e la mettiamo qua e adesso vediamo se riusciamo a mettere questa in giù no dritto no in giù così neanche in giù così neanche quindi forse facciamo così vediamo da questo lato facciamo una spirale e dovremmo incastrarci qua dietro ok abbastanza complicata come cosa ma ce l'abbiamo fatta intanto vediamo di aprirlo vediamo di dargli 570 ok e intanto abbiamo la nostra entrata il nostro guadagno mensile diciamo possiamo aggiungere magari intanto quegli struzzi che vanno in giro possiamo aggiungere magari qualche negozietto che ci sta sempre intanto io vi chiedo se avete voglia di vedere qualcosa in particolare in questo in questo parco scrivetemelo pure segnatelo in modo che possa aggiungerlo poi in un episodio fatto apposta insomma ok mettiamo le bevande e mettiamo una bisteccheria qua abbiamo qualche qualche cosa giusto per l'entrata ci facciamo un giro dopo anzi ci facciamo un giro appena arriva le persone che partono oh è partito è abbastanza semplice nel senso che la deriva è il fatto che vedete vi butta da una parte all'altra non è complicatissimo come cosa è semplicemente la parte iniziale è questa curva ma la cosa la cosa difficile la cosa tosta è il fatto che continua ad andare avanti indietro la la eccitazione intensità trazione è la scusatemi il fatto che il vostro carrello va da una parte all'altra vedete che si piega mentre siete in curva cioè sembra che slitti dietro proprio ok vediamo di aggiungere che cosa per adesso niente devo cercare di capire cosa vuol dire questa cosa cioè la possibilità di vendita degli struzzi cosa vuol dire che adesso è 3000 il fatto che se io vado qui necessità necessità sociali fame sete 130 kg animali adottato da io ho la persona rilascia animale vendi animale se io facessi così me lo vendo a 200 quindi in teoria basterebbe aumentare di popolazione questa cosa proviamo a vedere se mettendo dentro un paio di struzzi in più facciamo struzzo 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 facciamo due maschi e due femmine attuale meno 600 ah no devo proprio venderli ecco cosa che scemo vendi e quindi adesso sono a meno 200 ok ho capito cos'è devo vendere non rilascia ma vendi quindi effettivamente gli animali vanno venduti in questo caso e devo guadagnarci mi dice la possibilità e semplicemente devo venderli quindi di nuovo andiamo sotto questo e facciamo così si può fare ok proviamo a fare così facciamo così 132 facciamo così so che effettivamente adesso li sto vedendo a caso dopo dovrei venderli con una specie di criterio intanto vediamo 814 devo arrivare a 1000 quindi in teoria devo venderne ancora almeno 2 ok e quindi adesso almeno la prima cosa l'ho fatta qua dobbiamo arrivare a 2500 poi dovremmo arrivare a 4000 quindi dobbiamo venderne parecchi possiamo fare il recinto degli ipopotami io lo metterei qua in mezzo quindi proviamo a costruire il recinto degli ipopotami così quanto grande deve essere dovrebbe andare bene così dubito che ci saranno 10 ipopotami qua dentro ma ci proviamo gli ipopotami sono degli erbivori grossi che quindi va uh è gigantesca sta cosa vanno qua ok e proviamo a piazzarne qualcuno ipopotamo quindi vorrei un steccato elettrificato tra l'altro steccato a catena steccato elettrificato steccato di legno ah ok questo è la la quantità di 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 cosa esterna che dovete avere di protezione esterna quindi in teoria sinceramente non so se va bene questo o meno intanto mettiamo un maschio esatto intorno a Dilario e a Iris purtroppo è troppo fragile tra l'altro notavo che hanno tutti i nomi con la I come i leopardi hanno tutti i nomi con la L eccetera vediamo di fare lo steccato elettrificato quindi togliamo questo quindi dobbiamo togliere così eh voi devo devo togliere devo vendervi sposta animale lo mettiamo aumentaremente qua sposta animale aumentaremente in mezzo alla strada togliamo via questa togliamo via tutto questo e piazziamo invece quello giusto il bello il bello steccato ed elettrificato è un bello grande ok ci rimettiamo quella che è la tana dei grandi albivoli che andiamo a mettere qui e quindi tu riesco a riselezionarti in qualche maniera devi aprirti prima ah devo fare oddio cos'è sta cosa ok questa cosa non l'avevo effettivamente mai vista sinceramente non so neanche come uscire ditemi che si può uscire in qualche modo ok qua sotto quindi facendo così bisogna praticamente intrappolarli di nuovo e spostarli bello come aggiunta sinceramente non me l'aspettavo per niente questa cosa e questo intanto ci ha dato i due ipopotami questo ce l'abbiamo ci manca l'incasso totale delle attrazioni che però è 272 dobbiamo averlo per quanti mesi questa cosa o semplicemente deve finire il mese è raggiungibile in qualsiasi momento quindi basta che finisce il mese intanto Samoa Struzzo è rimasta incinta ed effettivamente è quello che dobbiamo fare cioè in qualche modo rimangono incinti e producono altri struzzi il che è bellissimo perché così possiamo venderli in qualche modo e trarne un guadagno è una cosa molto carina effettivamente questa fonte di guadagno e devo dire che è abbastanza bella come gestione della cosa vediamo di aggiungere intanto visto che abbiamo le possibilità vediamo quanti sperimentiamo e vediamo quanti popotami ci stanno qua dentro quindi aggiungiamo un maschio aggiungiamo una femmina aggiungiamo un altro maschio e aggiungiamo un'altra femmina così dovrebbero essere in 6 qua dentro e sicuramente soddisfano intanto c'è un altro struttore rimasto incinta soddisfano questa condizione quest'altra condizione vedremo più avanti e adesso velocizziamo il tutto in modo che finiamo marzo e dovremo essere a posto qua sembra stiano bene qui magari ci mettiamo il punto di osservazione in modo che siano carine e coccolosi vediamo di metterlo di qua non dispone di abbastanza fondi giusto ho un guadagno tra l'altro mensile ho speso un sacco fermo un attimo animali cattura animali fuggiti 5 ok non so se ho liberato degli animali per sbaglio oppure devo liberarli io qui c'è un qualcosa che è fuggito ti becco ti becco non è che spari propriamente nella direzione giusta però alla fine riusciamo a prenderlo e tu chi sei? ah semplicemente nella cioè devo andare in giro a fare questa cosa posso cliccare anche la to 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 ok preso bello è un mini gioco attivabile possiamo andare in giro a fare questa cosa ce la farò to preso e poi possiamo prendere questo no già preso possiamo prendere questo così così preso ok preso ho completato la sfida e abbiamo preso 1000 quindi è un mini gioco che viene fatto abbastanza carino l'ho steccato intorno agli animali quindi non mi interessa quella cosa ho guadagnato i soldi tra l'altro che mi servono giusti giusti almeno per essere abbastanza sicuri per poter mettere il primo livello l'abbiamo fatto il tuo livello di prestito è aumentato adesso vediamo di sistemarlo questo lo mettiamo qua e mi prendo un attimino di pausa e arrivo subito ed è come il ritornato vediamo un po di andare sul play in modo che possiamo in qualche modo raggiungere questa zona vediamo se è abbastanza facile o no come faccio a raggiungere esattamente questa zona qua ok quindi devo fare così e poi unire questo a questo tramite questo passaggio qua qua possiamo fare così e qua possiamo riempire di negozi e negozietti quindi facciamolo pure bella e molto creativa come cosa tra l'altro vi dà possibilità di creare e sperimentare e fare cose sempre nuove quindi molto molto bello intanto al livello successivo abbiamo già due delle quattro cose dobbiamo semplicemente vendere un sacco di animali in questo momento andiamo di espandere ancora il nostro prestito perché avevamo un prestito a 30.000 quindi abbiamo decisamente tanto con cui possiamo lavorare aggiungiamo questo intanto sta per partorire Samoa lo struzzo e abbiamo Stefania un nuovo struzzo abbiamo Stefania, Sebastia e Silvio quindi una serie di struzzi nuovi tra l'altro sta per partorire miliardi di volte e come potete vedere adesso siamo a 3.700 quindi decisamente molto di più rispetto a prima semplicemente io potrei velocizzare il gioco in modo da aspettare che questo si riempia per bene vedete che continuano ad arrivare struzzi in continuazione Susanna, Cerse, Junior, Savino in continuazione e qua siamo già a 4.000 di vendita dobbiamo venderne 4.000 in tutto quindi in teoria dovrebbe bastare così vediamo di cominciare a venderli quindi andiamo pure su pensavo ci mettessero di più ma a quanto pare è una cosa sempre di più o meno tutorial in modo che sia molto carina da poter gestire e facile 200 va bene tu vali 250 va bene credo sia in ordine d'età in qualche maniera ah no forse sono giovani ancora quindi posso fare così 199 va bene 200 va bene 178 ok e ce l'abbiamo fatta i tassi di interesse sono diminuiti qua come attrazione ci siamo vediamo di aggiungere gli altri 4 ippopotami guardate qua a cacca che c'è in giro tra l'altro e vediamo di aggiungere gli altri ippopotami che ci servono quindi 1 2 3 e 4 forse devo aggiungere un altro moschietto ok e dobbiamo semplicemente vendere altri struzzi per completare il tutto probabilmente mi verrà dito che non c'è abbastanza spazio di là decisamente un sacco di roba e cominciamo a vendere invece altri struzzi qua e là non so se sinceramente non so se c'è un modo più rapido per fare questo sarebbe utile ma va bene anche lo stesso animale venduto però non mi è stato detto ah si ok mi è stato detto quanto era adesso siamo a 3900 quindi il prossimo che vendo sarà samina che mi fa arrivare al livello magnate sono rimasti solo salome e salmo che tra l'altro sono maschietto e femminuccia quindi possono ripopolare tranquillamente il tutto devo dire che è una cosa molto carina la possibilità appunto di riprodurre questi sono leggermente troppi giusto per provare intanto si stanno strusciando visto che è venuto un episodio abbastanza corto vorrei aggiungere vedere un attimo possiamo fare un po' d'acqua no possiamo fare tipo una cosa del genere e loro si metteranno probabilmente a giocare con quella cosa o probabilmente no ho una palla ho un pupazzo ho una cassa ho un barile un blocco di carne congelata un po' di tutto loro non so se interagiscono con questa mi piacerebbe fare anche una qualcosa di acquatico fare una piccola cosa così questa funziona ma devo aprirla ecco cos'è che mi sono dimenticato e ci vediamo quindi al prossimo episodio al prossimo scenario le attrazioni sono molto poche ma è un modo per mostrarvi questo nuovo aspetto del gioco probabilmente questi episodi saranno corti non so se gli altri li vedrete sempre così oppure ci sarà qualcosa di qualche sfida un po' più complessa ci vediamo al prossimo scenario io sono Ace the Brave Namaste and be brave